come quello per portare avanti comunque iniziative che a carattere locale oggi sono più difficili che mai. Grazie e buonasera a tutti. Grazie all'organizzatore, un saluto particolare al professor Lucio Achille Gaspari, in ricordo del suo papà, il pluriministro Remo Gaspari. Parlare di Remo Gaspari è difficile, ma io credo che fra 100 anni, 200 anni, sui libri di storia, il nome di Remo Gaspari ci sarà, perché verrà ricordato come forse l'unico politico dell'Italia, del dopoguerra, per ciò che ha fatto e ciò che è riuscito a trasmettere. Perché Remo Gaspari ha fatto 50 anni di politica, ha dedicato la sua vita per il bene degli altri, ascoltando le persone. La caratteristica del ministro Gaspari era quella che conosceva tutti i paesi dell'Abruzzo, tutte le contratti, conosceva tantissime persone e ascoltava tutti. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo da quando ero ragazzino, bambino. Sono stato suo consigliere al comune di Cissi quando lui era sindaco e assessore, parlo degli anni 80, degli anni 90, quando si è costruito l'ospedale oppure le zone industriali del nostro territorio. Remo Gaspari faceva il ministro, io ero consigliere e assessore, però Remo Gaspari quando veniva ogni settimana al comune ed era una persona che si interessava di tutto, non solo della politica nazionale, ma andava a controllare anche se qualche lavione o qualche buca non era stata aggiustata, che lui l'ha vista la settimana prima e ci sgridava. Quando andava in giro per Cissi e per le campagne dei Cissi non andava con la sua scorta o con la sua BMW Celestino che aveva all'errore negli anni 80, andava con la sua 126 per non farsi forse notare, però vedeva tutto ciò che veniva fatto. Lui ci dava dei consigli di ciò che doveva vedere e fare, la settimana successiva andava a controllare per vedere se ciò era stato fatto effettivamente. Mi ricordo un episodio che una signora in una zona di Cissi di Crocetti aveva detto che non funzionava la luce e lui dopo una settimana andava a vedere se quell'audione era stata aggiustata. Questo era Remo Gaspari, oltre ad avere i problemi della vita politica e amministrativa di una nazione come l'Italia, perché Remo Gaspari era fatto pure il ministro della difesa, cioè nei suoi 50 anni politica a girare quasi tutti i ministeri. E io dico una cosa, noi appuzzesi potevamo approfittare dell'esperienza di Remo Gaspari anche due anni fa con l'episodio del terremoto, perché se non lo sapete vi voglio ricordare che tutte le più grosse catastrofe che sono successe in Italia dal 62-63 sono state gestite sempre con grande professionalità ed ottimi risultati da Remo Gaspari. Dalla lupione di Firenze, terremoto del Belice, per andare fino alla Valtellina. Io mi ricordo che il ministro stava sotto a Bastomarina. La stampa parlava che mentre il ministro stava in vacanza, su succedeva il Finimondo. Remo Gaspari in quell'occasione è riuscito a salvare la Valtellina con quella operazione, la tracimazione, dove il suo consulente, l'attuale ministro Lunardi, che era un suo consulente, l'ingegner Lunardi, e in quell'occasione per la prima volta in Italia un ministro si è preso la piena responsabilità di ciò che stava facendo. Remo Gaspari ha avuto dei grandissimi riconoscimenti al nord, moltissime cittadinanze onorali. Una era in programma per il mese di settembre di quest'anno. E al Comune, dopo il 19 di luglio, dopo la sua morte, mi sono arrivati parecchie telefonate di sindaci dei paesi della Valtellina, per ricordare e che si scusavano che avevano saputo in ritardo della morte dell'Emo Gaspari di non aver potuto partecipare al funerale, perché loro hanno un grandissimo e un ottimo ricordo del ministro Gaspari. Noi dobbiamo trarre insegnamento dal ministro Gaspari, perché chi viene eletto a qualsiasi livello e ricopre un incarico pubblico deve stare a servizio dei cittadini e non si deve servire della politica per suo fine personale, per raggiungere il suo obiettivo. Non deve avere paura di incontrare le persone, bisogna incontrarle, ascoltarle. Questo era ciò che faceva Emo Gaspari. Vi ricordo semplicemente che la casa di Emo Gaspari, Agissi, lungo corso Vittorio Emanuele, è la casa che ha costruito il padre che si chiamava Achille Gaspari. E lui Emo Gaspari beva in quella casa e in quella casa Emo Gaspari è morto. Quella porta, pure quando era ministro per problemi di sicurezza, la porta non è stata mai chiusa, è stata sempre aperta. E per andare a parlare con Emo Gaspari non bisognava fare anticamera, come attualmente purtroppo siamo costretti quando vogliamo andare a parlare con qualche direttore o qualche politico. Trovo pure io difficoltà, ricoprendo il ruolo di sindaco, che a volte mi viene dato l'affondamento. Vado e non trovo con chi devo interroguire. E non hanno neanche il buon senso di fare una telefonata per dire l'appuntamento è annullato. Emo Gaspari senza appuntamento si andava, lui riceveva tutti, anche quando stava pranzando o cenando, faceva sedere le persone al suo tavolo e lui ascoltava tutte. Quando era assessore, un giorno che ci doveva parlare, addirittura si stava facendo la barba. A casa, mentre si stava facendo tra barba, ascoltava le persone. E non ha mai chiesto a nessuna persona la tessera del partito. A lui non interessava di che partito era. Dava consigli a tutte le persone. In Abruzzo si diceva che c'era il periodo del clientelismo. Quello di Gaspari non era il clientelismo. Lui faceva delle presentazioni. Se una persona andava a ricerca di un posto di lavoro, gli dava l'indicazione che a quella ditta poteva servire una persona che aveva questa esperienza. Lui non chiedeva alle dittime, dovete prendere questo. Lui diceva, Gaspari ha creato migliaia e migliaia di posti di lavoro. Quindi creando migliaia di posti di lavoro, il lavoro c'era per tutti. Però per i meritei, per quelli che lavoravano, non è che uno doveva andare a lavorare e far fare brutta figura a chi aveva fatto questa presentazione. Remo Gaspari è riuscito a trasformare l'abruzzo. Perché noi nel dopoguerra, la nostra regione era una regione povera. Qui c'è il figlio, il professor Gaspari, nel suo, nel salotto del padre, Pianterreno, c'è una foto che ci dice cosa era l'abruzzo. Quella foto degli scolari professori che vanno a scuola. fatto. Vediamo dei ragazzini di 7-8 anni che qualcuno porta le scarpe, forse 42-43, perché in quel periodo le persone non avevano neanche le scarpe. Per andare a scuola qualcuno si metteva le scarpe dei genitori. E quindi quella foto che... e quello era l'abruzzo dell'epoca. adesso l'abruzzo con... il nostro abruzzo ha raggiunto degli ottimi livelli. Abbiamo due università, le autostrade, delle zone industriali che tutti ci invidiano, la Sever e altre zone. Questa è programmazione, perché Gaspari riuscirà a programmare. Prima nel politico... Gaspari la sua abilità era che programmava il futuro, ciò che ideava oggi, forse si realizzava tra 15 anni. Invece la maggior parte dei politici attuali navigano a vista. Non c'è programmazione. Non si sa cosa si fa fra un anno, fra due anni, fra tre anni. Si vive alla giornata. E noi stiamo assistendo nel nostro abruzzo questo fatto. Se adesso col terremoto veniva, credo, interpellato Remo Gaspari, Remo Gaspari poteva dare delle soluzioni e delle idee. Forse non ci troviamo come si stiamo trovando adesso. Perché avere a disposizione una persona con quell'esperienza in Italia e al mondo non esiste. E Remo Gaspari, forse, credo, io provengo dalla democrazia cristiana. Ho 53 anni, quindi da quando avevo 14 anni. Ci sono rimasto male quando nel 93-94 la democrazia cristiana, con Martimazzoli il partito è stato mandato allo sbanto. È stato scisso, diviso, così. Se il segretario all'epoca era Gaspari, credo che il partito della democrazia cristiana rimaneva. Perché era l'unica persona che non voleva la sostanzia cristiana. Perché era l'epoca di mani pulite. Tutte le persone che condavano all'interno del partito non vedevano l'ora perché il partito non esistesse più. Così dice la magistratura, non farà più l'ingiesto. È l'unico politico, ministro, che si era opposto era Remo Gaspari. Perché Remo Gaspari non aveva scantere nell'armadio. Noi possiamo dire che ha fatto 50 anni di politica, però non c'è stato mai un sé e un dubbio sulla sua correttezza politica e sulla sua onestà. Questo lo dobbiamo riconoscere. E credo che sarà una cosa unica. Per questo dico che fra 100 anni, 200 anni, nei libri di storia, il nome di Remo Gaspari ci sarà. E verrà ricordato per ciò che ha fatto per l'Abruzzo, ciò che ci poteva dare. Prima Luciano D'Alfonso, se la torregnine, ricordavano che l'Abruzzo negli ultimi 10-15 anni non cresce. L'Abruzzo fino al 2000 è cresciuto. E' cresciuto perché c'erano ancora i progetti avviati dal ministro Gaspari che ha abbandonato la vita politica attiva dal 1993-94. Una volta che sono finiti quei progetti non ci sono stati nuovi progetti. Per questo l'Abruzzo non cresce. Io mi auguro che adesso ci sia qualche altra persona. Non dico che deve fare ciò che ha fatto Remo Gaspari, però che almeno con l'onestà di Remo Gaspari possa far ripartire la nostra regione, rappresentare l'Abruzzo al Parlamento oppure a livello regionale per dare quel ruolo e la dignità che questa regione merita. Perché Remo Gaspari quando era ministro e si facevano le leggi, si dava tutto a tutte le regioni dell'Italia, ma qualcosa si portava ancora al nostro avruzzo. Invece adesso noi non abbiamo più niente. Io che faccio parte di uno schieramento politico ho difficoltà. Non conosco neanche tutti i nomi né dei senatori e né dei deputati che ci rappresentano. Perché loro vengono eletti, stanno a Roma, noi siamo i deputati che stiamo qua. Quindi non contiamo perché la regione Abruzzo viene qui. Loro di noi non ci capono. È importante che continuino ad avere il loro potere a Roma, fare il deputato, avere a disposizione tutti i benefici che possono avere i parlamentari. Noi dobbiamo far crescere persone che amano questo territorio. Questo è il nostro impegno. Remo Gaspari ha fatto il sindaco a Gisti sia nel dopoguerra che poi dal 74 al 95. Io non... cioè se riuscissi a fare la decima parte o la millesima parte, quello che ha fatto da Gisti e Remo Gaspari, sei la persona più contenta di questo mondo. Perché lui e Remo Gaspari ha trasformato non solo Gisti, perché Gisti è riuscito a portare l'ospedale, non perché è stato un suo capriccio che serviva all'ospedale a Gisti. Era quel territorio che non aveva niente come assistenza sanitaria. Però purtroppo adesso in Abruzzo stiamo tornando di 100 anni fa, perché la sanità... purtroppo lo dico io da medico, non funziona. Non voglio dare la colpa a nessuno. Però abbiamo un sistema sanitario che non funziona. Gaspari ha cercato di dare a determinate zone ciò che serviva. Le zone industriali ha dislocato in tutti i territori dell'Abruzzo, ha portato un benessere in tutto l'Abruzzo. Questo noi lo dobbiamo pretendere. Io faccio un augurio in questa sala, vedo il professor Gaspari, spero che lui si voglia impegnare politicamente, che risolta da parte nostra professore si dice che il mestiere del papà per il 50% uno lo sa fare. E quindi il mio augurio è che abbia una tantissima carriera politica come l'avamo da me, per la professionista da Gisti. Grazie. E questo augurio sicuramente ci sarà una buona esperanza in questa eredità. E perciò ora, prima di dare la parola all'unico figlio di Reno Gaspari, al dottor Achille Lucio Gaspari, che è l'ospite d'unore, c'è la consegna di una targa da parte di Antonio Bellorso al figlio di Reno Gaspari. Allora, consegno una targa al professor Achille Lucio Gaspari con stima e amicizia in occasione del convegno, il ricordo di una buzzese vero, l'onorevole Remo Gaspari. Mi permetto solo di chiederle, di raccontarci che cosa farà domani a San Francisco. Allora, intanto devo ringraziare, devo ringraziare gli organizzatori, i relatori e voi tutti, perché mi avete dato una profonda emozione e avete contribuito anche voi a farmi capire ancora di bucchiere in domani. Si pensa che figli sappiano esattamente chi siano i venditori, che lo sappiano quando sono vivi, ma non è proprio così. E quindi questa manifestazione, l'attenzione e l'emozione che ho porto anche ai tanti amici che sono qui presenti si trasferisce in me e per far liberare i miei sentimenti, il mio cuore, la mia anima. Devo anche dire che è difficile prendere la parola dopo oratori così brillanti che mi hanno preceduto, anche perché io non è che mi posso sfidare dicendo venite a fare una conferenza scientifica, quindi io dichiaro che ho già perso la partita e non mi metto assolutamente in confronto. Per una strana, voglio fare una riflessione, per una strana coincidenza, ieri Vittorio Feltri ha fatto un commento al convegno Vittorio e in questo convegno parla della democrazia cristiana. In parole povere cosa dice? Ma la democrazia cristiana ha preso i voti perché i parloci, le parlocchie e lezione cattolica li trovavano a questi voti. Ha galleggiato 40 anni aumentando e creato il debito pubblico che oggi opprime il nostro popolo governo e non sa quello che deve fare. Ma non ci provate a rifare la democrazia cristiana. Ora già fin visto non ci crede più nessuno. La gente va in chiesa così per abitudine e quindi i parloci non mi saranno più utili per portare i voti e per ricreare questo partito. Ma io penso che Vittorio Feltri dimentica un piccolo particolare. La democrazia cristiana quando ha cominciato a lavorare, il mio padre Arrello che arrivava in Lambretta, tutti i comuni d'Abruzzo, ha ereditato un paese che aveva un'esperienza di vent'anni di dittatura. Cinque anni di guerra con eserciti occupanti e gli imperatori che l'avevano passata, diciamo trascorsa questa penisola, dal nord al sud e dal sud al nord, come non accadeva più dal tempo delle guerre napoleoniche. C'era stata la guerra civile, c'erano distruzioni materiali e morali. La democrazia cristiana ha lavorato con la collaborazione degli altri partiti democratici, ha dato libertà, ha dato democrazia, ha dato sviluppo, ha dato giustizia sociale. Non sarà forse per questo, non vedo cosa ci possano entrare questi ragionamenti, perché forse hanno paura che qualcosa di nuovo possa muoversi. vedete, il nostro Presidente del Consiglio adesso si preoccupa di trovare un nuovo nome al suo partito, un nome che ha i di più voti. Quello della Gnocca l'ha lasciato da parte, perché se prendeva il 50% dei voti, il 50% l'avrebbe perso. Si cercano i nomi per i partiti come se fossero dei biscottini davvero. I voti si devono chiedere e si devono tenere su quello che uno fa, su quello che uno realizza, non su quello che uno promette e poi non mantiene perché 50 anni prima qualcun altro ha creato un debito, un debito che poi negli ultimi 18 anni è stato di molto aumentato. Quindi noi qui abbiamo sentito che si deve cambiare la legge elettorale, si devono cambiare molte cose, io penso che si devono cambiare anche molti uomini, perché le leggi servono, servono pure le persone che queste leggi le sappiano interpretare e che le idee buone le sappiano portare avanti. Io credo che noi dobbiamo avere fiducia e speranza per il futuro, perché quello, lo ha insegnato Don Gasperi, si deve fare per esempio. Io voglio raccontare brevemente due persone. Uno che risale agli inizi della carriera di mio padre, nel 1950, si doveva eleggere il segretario provinciale della Repubblica di Sia Radichini. Mio padre era 17 anni, era vicino alle necessità e ai bisogni di lavoro. Il suo oppositore era sostenuto dall'establishment più anziano della Repubblica di Sia Radichini, che faceva riferimento. Allora non c'erano i bisogni di Sia Radichini, non c'era, c'erano 400 addetti a riduzzi, era stata la provincia di Chieto, ma c'erano le proprietà di carriere, c'erano i diritti possibili. E mio padre contrastava questa politica, dalla direzione del partito, gli arrivò un avventimento. Caro Gasperi, sei giovane, sei brillante, che ti metti di traverso. La tua carriera politica ne potrebbe essere nella letta. Come sono? Non ha raccontato. E gli hanno detto che io non voglio dire che gli era un personaggio molto diverso. Lui ha avuto il coraggio di lottare, ha avuto il coraggio di andare avanti perché non lo faceva per la sua carriera, lo faceva per le sue idee. Quelle idee erano le migliori e vinse. E fu elettro. E l'altro episodio è le ultime ore di vita di mio padre. Lui sulla sua scrivania è stato fino a oltre mezzanotte a lavorare, a prendere degli appunti e a scrivere delle cose. E poi è andato a dormire per un sonno da cui non doveva più svegliarsi, non doveva più rialzarsi. E io ho visto quello che c'era scritto. Le ultime carte che lui ha apprezzato dopo mezzanotte erano degli appunti di cose da fare. Erano degli appunti in cui aveva fissato delle idee per alcune realizzazioni che dovevano essere fatte. Quindi una vita dedicata all'attività politica sostenuta dall'impegno di tutti. Dei cittadini, dei politici, degli ordini di cultura, dei lavoratori. Bene, io credo che si può riprendere. Ora, se questo convegno fosse stato un convegno creato solo per un fenomeno affettivo, a me ha dato delle funzioni anche a voi, finirete qua stasera questo ricordo. Se fosse stato un convegno di valore storico sarebbe utile per gli studiosi. Invece io credo che questo sia un convegno che abbia un valore politico, che ci mette di fronte degli obiettivi. E allora io dico che lavorando tutti insieme, noi questa rivoluzione, questo risorgimento dell'attruzzo e dell'Italia, perché abbiamo bisogno di un nuovo risorgimento, noi lo possiamo fare, noi lo dobbiamo fare e non lo vogliamo fare. Ringraziamo tutti gli intervenuti, credo che questa sera sia nata una nuova figura politica, credo che questo lo dobbiamo riconoscere. Perciò un augurio grandissimo al dottor Achille Lucio Gaspari per una brillante carriera.